Oh, dai, io! Passo e chiudo. Passo puntato. Spingo indietro le braccia. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Quanta fatica volete fare? Sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Semplicemente braccia in alto, scendo con energia sulle ginocchia, ok? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e ancora otto. Tre, quattro, tre, quattro, sette, un, rest. Resto, passo e chiudo. Ancora una volta. Qui, va, giù. Sempre con energia. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette, tre, otto, one, one. Prendiamo il progetto. Un affondo in avanti, una torsione. Solo da una parte. Va, affondo, torsione e torno. Spingo, torsione e torno. Solo da una parte. Qui. Three, two, one. Ancora. Qui. Three, two, one. Cambio damba. Qui, torsione e qui. Torsione e torsione. Torsione e torsione. Torsione e torsione. Torsione e torsione. Ancora. Qui. E. Three, two, one. Rest. Qui. No, perché quella parola, ve l'ho letto, fa fermare il mio orologio. Passo e chiudo. Torsione e torsione. Three, two, one. Ancora. Qui. E. con energia riprendiamo il nostro pesetto a fondo twist e spingo twist ricordate anche spingo twist e qui twist e twist qui twist e ancora ora due tre cambio parte qui e qui qui come va? benissimo ce ne sono tre ancora un due tre e stop tutto bene? possiamo prendere due pesetti che dici che dite no 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 ma è complete complete passo affrontato semplice semplice facciamo bicicletta dici di incrociati davanti c'è già un get ready purtroppo ed ora dunque gambe divaricate giù facciamo un row e su su scendo ro qui su qui scendo o qui e back su qui piego su rest come va? benissimo ed ora sempre gambe divaricate facciamo lunge laterale lunge frontale lunge alzata laterale alzata frontale lato front lato front lato front guardate voi sostenere questi o prendere i più piccoli 3 2 1 va qui e su in alto qui piuttosto che farli male prendete i più piccoli qui su e 3 qui 2 su 1 wrist rest com'è? ora opposto lato front lato front lato front lato front lato front front lato front front lato front come va? ora semplicemente row da qui row goblet squat row goblet row goblet row vedete voi se volete farlo chiuso qui o più largo qui e qui 3 2 1 vai lato front lato front lato lato front lato front lato lato front lato è faticoso no? è un po' faticoso 3 2 1 vado qui goblet on goblet e goblet e goblet in compenso questo mi diverte tantissimo 3 2 1 goblet rest e rest non vi divertiva va lato front lato front lato front lato front lato front lato lato front completed Completa. Dai dai. Volete andare a terra? Vi ricordate che avevamo detto ma quanto è bella questa cosa qui. Da qui, su, giù. Vi ricordate che l'avevamo detto? Quindi da così salto, mi chiedo, così scendo. E qui salto, scendo. Su, qui, giù. E su, qui, giù. E su, qui, giù. Mi raccomando, no meno, meno salto. Meno. Mi raccomando e passate dal birtto. Continui da qui, salto, qui e qui. Salto, qui, giù e salto. Salto, qui, giù e salto. Qui, giù e salto. Qui, resta. E adesso, capite se ci alziamo anche? Vi fare una cosa carina? Qui, e scendo. Qui, giù. E qui, su. E qui, giù. Salto, qui, giù e salto. E qui, giù e salto. E qui, giù e salto. Qui, giù e salto. Salto, qui, giù e salto. Come va? Riprendiamo da quella iniziale solo. Salto, qui, e giù e salto. 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 Allungo. Ora ci alziamo in piedi senza salto. Salto, qui, e in piedi e torno. Salto, qui, in piedi e su. Salto, qui, in piedi e salto. Resto. Ora, normale, quindi senza starci in piedi, senza salto. Salto, qui, in piedi e salto. Salto, qui, in piedi e salto. Salto, qui, in piedi e salto. Bene, l'ultimo col salto. Ce la possiamo fare? Certo che ce la possiamo fare. Su, qui accovacciata, salto e giù. Su, qui accovacciata, salto e giù. Qui, accovaccio, salto. Qui, giù. Completo! Come va? Volete stracciare? Volete stracciare un po'? Stracciamo. Un attimo. Portiamo. Scende e cambio.